caccia grossa notturna cosa ci sarà la cosa c'è cosa c'è Lucy? Lucy che c'è lì? chi c'è? una lucertola chi c'è? per quello che poi ti sei scorticato adesso vieni da me eh Lucy? adesso vieni da mamma prima hai fatto un salto volevo far vedere a tutti che ti sei arrampicato nel rampicante su 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 volevo far vedere a tutti le tue prodette c'è qualcosa lì? vai vado a prendere vai prendilo prendilo vai attacca attacca vai Lucy attacca prendilo adesso facciamo la seconda puntata quando salti eh sennò è troppo lungo questo filmino grazie a tutti